Musica Eeeh ciao a tutti ragazzi io sono Bayon Gamer E anche oggi siamo tornati con un appuntamento di PES 2018 nella modalità diventa un mito E altro che mito signori perché cercherò di far diventare Christian H. Endaltutu una vera e propria leggenda Ma come dice qualcuno Roma non fu edificata in un solo giorno Quindi signori visto che siamo titolari nella terza partita stagionale del Cittadella Andiamo direttamente alla schermata in partita Come potete vedere oggi si gioca fuori casa contro il PAM Quindi signori ragazzi diamo il via alle danze Ok gettaglia si inizia si inizia vai vai Christian vai Aggressivo bella 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 ok bravo bravo Vai Christian non sei velocissimo però puoi tenere bellissimo palla Bella Christian bella bravo bravo Christian Schilla niente non schilla però riesce a passarla bella Bella Ok 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 ragazzi ci siamo ci siamo ci siamo Attenzione attenzione occhio Ma come cazzo si fa tutte le sante volte a prendere un gol così Cioè in un certo senso è sempre bello ma il portiere sembra finto cazzo Tienilo tienilo bravo Christian bravo Christian vado il filtrante Christian Beh buona 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 Te la alzo te la alzo Perché? Perché? Quale? Quale motivo? Quale? Perché ci vanno di testa così? Delle mozzarella? Gli sparo letteralmente delle mozzarella Bravo Christian Grande Bella Bella bello 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 filtrante Stupendo Eh la vedo buona la vedo buona è infatti Calcio d'angolo Calcio d'angolo Schimino Provo a caricare di più ancora Stavolta è buona niente Ci arriva? Ci arriva ci arriva ci arriva ci arriva Vieni qua dalla qua dalla qua Bravo Cross Christian Vai tira 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 idiota tira Questi ce ne fanno un altro Guarda come l'ha messo a sedere Abbiamo un cazzo di portiere finto E' fintissimo Portiere ci sono sono qui sono qui portiere sono qui Ok Buona Dai che ci arrivi No Guarda che la purezza Picchia sei brava dentro Vai che ti faccio Il 1-2 Bella Bella Non se può Non se può Non se può C'è impossibile La squadra di merda proprio Ok signori calcio d'angolo Strategia Vediamo se riusciamo a fare Qualcosina Così almeno Manco Manco pericca Che poi qual'è il problema Che io posso controllare Soltanto un giocatore E qua Guarda Guarda gli idioti Guarda E' finita 2-0 2 gold 2 gold e cazzo Abbiamo preso Abbiamo preso 2 gold e cazzo Vabbò Andiamo avanti Vediamo un po' Quanto abbiamo preso Come valutazione Eh 6 Siamo rimasti con la sufficienza Buono dai Vediamo un po' Che succede Andiamo nella lobby Vice allenatore Oggi parti dalla panchina E certo Stai sempre pronto Ad entrare il campo Va bene In pochi parole Dobbiamo giocare In trasferta Contro il frosinone E mo vediamo Quando l'allenatore Deciderà di farci giocare Allora Gettaglia Appena finito Praticamente il primo tempo E stranamente Stiamo vincendo Per 2-1 Ora speriamo Che l'allenatore Decida di farci entrare All'inizio del secondo tempo Questo ve lo devo mettere Assolutamente ragazzi Perché anche quando vinciamo Loro sono in grado Di infliggersi pure Di autogol Guarda qua Bravi idioti C'era proprio una difesa Di quelle eccezionali Salve a tutti ragazzi Sono Oh Finalmente ragazzi Guardate Tutti in piedi Applausi Entra Emdal Tutu Dai 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 che c'è Ma dove cazzo Ma ho messo Aspetta un attimo Mi sa che ho messo Cc Si Centrocappista Che tra l'altro Ragazzi Da 71 Passa 74 Buono Bella cristia Bella cristia Bella cristia Incredibile Guarda Affanculo Guarda Fallo no Dalla qua Dalla qua Dalla qua Bravo Vai col cross Aspetta un attimo Assessi Assist Tm Tutu Ragazzi Non ci sto credendo Guarda come Quanto 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 è Bass Che cazzo Che cazzo c'era L'autostrada La fammelo rivedere Guarda come si sono aperti Il corridoio Ok 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 Corri Bravo No Di testa Ma che partita di Coppa Italia E mi avevo capito Si vuole supplementare i ragazzi Buono Vai Vai Bella 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 Di prima Calma Calma Aspetta Aspetta La prendo io La prendo io La prendo io Bella Incredibile E sul tazzo E sul tazzo Faglielo vedere Faglielo vedere Vai con la tab Il tiro incredibile Che ho fatto Bella Guardalo Guardalo quanto è contento Il piccolo Cristia Il piccolo Cristia Daniel si Fammelo rivedere Fammelo rivedere Guarda che alza il braccio Guarda Guardalo Guarda quanto è contento Guarda come la piazza è bene Grande 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 Dal tutto Grande Bella Bravi Così vi voglio 1 2 Filtranti Buttare Buttaglia La taglia La taglia La taglia Lecce Li quasi Li quasi Porca Putta Ok 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 Bella 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 Madonna che panno Madonna che panno Niente Qua sono sempre soli Questi Occhio 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 al 17enne ho le lacrime ho le lacrime emozioni voto voglio il voto voglio il voto voglio il voto datemi il voto dove sei? no vabbè questi sono quelli titolari dove sei? migliore il capo ragazzi 7 grazie 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 hai visto Cristian che belle figure che ti faccio fare ogni tanto te la figuerei di merda oggi è una bella figura applausi al sottoscritto applausi va bene c'è taglia direi che possiamo concludere qui anche questo video su diventa un mito insieme al nostro emdal Cristian Tutu ormai non so manco più come cacchio chiamarlo ma prima di chiudere definitivamente vi esulto a passare dal canale di Crisabo emdal tube di cui trovate il link qui sotto in descrizione e sempre qui sotto in descrizione trovate anche il link di Pest Italian Bar detto ciao signori concludo qui anche questo episodio ovviamente spero che il video vi sia piaciuto quindi vi da lasciare un bel pollicione su e commentare alla prossima ciao 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 ciao